Entrando nel nostro albergo si respira davvero un'aria di montagna. Legno e colori caldi vi accolgono in ogni ambiente. La nostra cucina si basa sui migliori ingredienti locali e propone piatti come la polenta taragna, i formaggi, la selvaggina e i funghi, senza tralasciare un tocco di creatività. Ci trovate a Branzi, ai piedi delle Alpi Bergamasche. Qui è facile raggiungere vette, laghi alfini in estate e piste scistiche in inverno. Vi aspettiamo numerosi per scoprire i sapori della nostra valle.